Oggi, alle ore 17.30, avrà luogo al Resuttano, presso la Sala Reunioni di Via Filippo Iuvara, un'assemblea cittadina che avrà il seguente ordine del giorno. Finalità e obiettivi dell'Associazione a tutela del rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Il problema delle liste di attesa e della desertificazione sanitaria. Il problema dell'assistenza sanitaria pediatrica nei comuni di Resuttano e Santa Caterina Villarmosa. L'importanza della salute mentale al pari della salute fisica, per una rivoluzione culturale sulla figura dello psicologo. L'incontro sarà presieduto dai sindaci Rosario Carapezza e Giuseppe Ippolito e interverranno Giuseppe Pastorello, presidente dell'Associazione Noi per la Salute di Anselmi, Michele Rizzo, vicepresidente dell'Associazione ed ematologo in pensione e lo psicologo Piero Cavaleri.